Il comune costiero di Roseto degli Abruzzi ha concordato con le associazioni turistiche presenti nell'ultima riunione il prospetto delle tariffe per l'imposta di soggiorno 2019, stessi importi dello scorso anno con la sola differenza della divisione dei villaggi turistici per tipologia di stelle. La novità più importante rispetto allo scorso anno riguarda però il periodo dell'applicazione dell'imposta, che è stata ridotta a tre mesi dal 1 giugno al 31 agosto 2019, anziché sei mesi del 2018. Dopo tre sedute di riflessione abbiamo proposto una soluzione che è mediana, come in tutte le trattative, e che secondo me accontenta quasi tutti, perché un'associazione si è sottratta dal partecipare all'ultima seduta, dicendo che è pregiudizialmente contraria all'imposta di soggiorno. Però la maggioranza delle associazioni, in particolare Federalberghi, che è l'associazione più rappresentativa, ha dato assenso a questa nostra proposta di ridurre il periodo di applicazione dell'imposta ai soli mesi di giugno, luglio e agosto e di prevedere, per compensare il lucro cessante derivante dalla minore durata dell'applicazione, di prevedere un aumento per i villaggi turistici a quattro stelle da un euro a un euro e cinquanta. Teniamo presente che i villaggi turistici a quattro stelle però beneficiranno di una riduzione del periodo. I clienti dei villaggi turistici pagheranno per soli dieci giorni e non più per quindici giorni. Quindi, come vedete, è veramente una soluzione che tende a contemperare un po' gli interessi di tutti, dell'amministrazione a vedere istituita questa imposta per rendere più bella la città, per promuovere la città. è quella degli operatori turistici a salvaguardare la bassa stagione da oneri che potrebbero pregiudicare l'adesione dei turisti alle loro proposte.